il mio concetto di persona piacevole è quello di una persona che d'accordo con me benjamin disraeli ma in realtà ho i miei forti dubbi disraeli è stato il primo ministro e grande amico della regina vittoria nell'ottocento dal punto di vista di un politico di una persona che vuole ottenere un risultato a tutti i costi che il risultato molto chiaro non intende metterlo in discussione e punta assolutamente a quell'obiettivo lì cioè a acchiappare quella cosa allora effettivamente essere circondato da yes man quale sarebbe questa cosa o yes woman insomma scelta gente sì 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 e può essere anche un qualche cosa di interessante a me me ne importa niente in realtà il mio diciamo come dice lui concetto di persona piacevole è una persona che non è d'accordo con me non una persona che mi salta ad ossa e mi insulta perché è faticosa da seguire ma una persona che ha pareri diversi cosa me ne faccio io di qualcuno che mi conferma è una cosa che ogni tanto mi capita proprio di lamentare dico perché mi dici che va bene la cosa che proposto dimmi che non va bene così la possiamo perfezionare meglio perché comunque avere una valutazione avere una critica avere un contrasto nel rispetto reciproco è qualche cosa che dà un sacco di idee quindi vabbè forse un politico a questi obiettivi forse un manager nel senso di un comandante di una specie di esercito può darsi ne dubito fortemente anche lì però può anche darsi altrimenti voglio rovesciare per una volta la citazione e metterla così il mio concetto di persone piacevole non è quello di una persona che è d'accordo con me